Prevenzione e corretti stili di vita, professor Marra, sono in grado di ridurre di oltre il 50% il rischio di malattie cardiovascolari, è così? Assolutamente sì, è una cosa dimostrata da parecchi studi su varie nazioni, è una cosa che si è posto il medico, il cardiologo, valutando il beneficio che si aveva sulla mortalità in varie nazioni con i migliori trattamenti, bypass, angioplastica, statine e tutto quanto. E anche lo studio Monica l'ha dimostrato che la riduzione di mortalità per malattie cardiovascolari negli ultimi 20 anni attraverso la correzione dei fattori di rischio era superiore a quello che è stata la migliore terapia possibile della malattia. Questo può sorprendere ma non deve sorprendere se pensate che quando la malattia si presenta e noi la curiamo con il meglio che possiamo usare, noi curiamo già una malattia avanzata e quindi con una progressione di danno che poi inciderà sulla durata della vita dell'individuo. Quando noi correggiamo i fattori che determinano la malattia facciamo sì che l'individuo arrivi in un'età più avanzata con delle condizioni migliori e l'impatto quindi è molto più morbido e molto più a lungo riesce ad essere valido. Fattori di rischio diversi per uomini e donne ma certamente le donne non devono dimenticare di non essere immuni ai rischi cardiovascolari. Allora praticamente il rischio di malattia cardiovascolare per la donna è molto vicino a quella dell'uomo, l'unica differenza che il buon Dio ha dato è che la donna quando è in età fertile ha gli estrogeni che hanno un effetto anti-infiammatorio, anti-degenerativo sulle arterie e questo spiega perché la mortalità del sesso femminile in termini generali è superiore in termini di età media a quella dell'uomo che ci sono circa 5 anni di differenza perché la donna quindi comincia tra virgolette quello che è l'invecchiamento delle arterie dopo ma la donna ha questo vantaggio ma lo svantaggio se permettete che la cultura medica fino all'altro ieri non ha mai distinto bene la sintomatologia e il modo di presentarsi della malattia delle arterie della donna che è diverso da quella dell'uomo, anche la malattia è un po' diversa tanto per parlarci chiaro la malattia della donna nelle coronarie è più diffusa, meno se mi permettete aggressiva nel singolo punto ma più diffusa e quindi alla fine può fare un danno maggiore e crea dei sintomi magari un pochettino ambigui, magari più fiato corto e meno dolore e anginosi, questo può forviare quindi la consapevolezza di questo si è percepita solo negli ultimi 10-15 anni e si è visto comunque facendo attenzione prima la mortalità, negli anni 90 fino al 2000 la mortalità della donna è decisamente supera per le malattie cardiovascolari rispetto all'uomo e questa era veramente una trascuratezza diagnostico-terapeutica che è stata più o meno aggiustata e adesso diciamo che è simile questo concetto Molti fattori di rischio, professore, li conosciamo, lei però ne ha indicato uno che è il cattivo umore Io lo chiamo cattivo umore perché la parola può prestarsi ad andare dal umore cattivo fino alla depressione nei termini clinici più chiari Eh sì, non è chiaro questa cosa alla comunità scientifica, o almeno è poco chiaro però vi faccio presente che la tendenza a cattivo umore o alla depressione attiva il sistema simpatico in modo abnorme facilmente chi ha cattivo umore ha la pressione più alta, ha il battito più veloce, ha più aritmie, più extrasistoli, ha una maggiore aggregazione piastrinica c'è tutto un sistema di cose che fanno alzare la pressione, il vaso costringono le arterie, tendono a favorire la trombosi delle arterie ed è quindi un fattore di rischio indipendente, sottovalutato, spesso sottovalutato quindi la cura di questo che spesso è banale, elemento facile e semplice secondo me è fondamentale e non trascurarlo per evitare di avere un rischio non spiegabile a volte del perché di certe malattie Il fattore di rischio più pericoloso però resta un fattore di rischio non conosciuto, questa l'importanza della prevenzione Ha detto la cosa giusta, abbiamo visto che c'è un quarto della proporzione piantese che non conosce il proprio colesterolo un terzo, un quarto che non conosce la propria glicemia, il che non è una condanna per carità però la conoscenza di questi elementi è molto semplice, un costo veramente ridicolo e irrisorio ma dietro questo c'è una malattia aterosclerotica, c'è una malattia diabetica che sono malattie micidiali quindi anche diffondere la semplice conoscenza del coso può permettere al singolo individuo di difendere perché non c'è un sintomo da colesterolo alto per parlarci chiaro il sintomo è il finale, c'è l'infarto, è l'ischemia cerebrale o è la morte sapere che uno ha 40 anni e ha un colesterolo alto deve domandarsi, analizziamo, trattiamo mangiamo meglio, camminiamo di più, non fumo più cioè magari se io ho solo quel fattore, faccio un discorso tecnico banale ok, curo solo quello, ma se io ho tanti fattori di discorso io sono obeso, inattivo, fumo, ho la pressione alta e scopro per caso quel colesterolo alto io devo correggere tutti questi fattori che comunque incidono poi sulle arterie perché ogni singolo fattore sulle arterie ha lo stesso tipo di danno quindi se io ho 10 martelli che schiacciano l'arteria o un martello, capite la differenza Infine sfatiamo un luogo comune, c'è correlazione tra l'ansia e il caffè, tra le malattie cardiovascolari e il caffè? No, abbiamo dimostrazione dei nostri dati piemontesi che il bevitore di caffè non ha assolutamente più ansia anzi al contrario e non dorme meno di quello che non prende caffè tra l'altro sono usciti proprio in questi ultimi due anni dei bellissimi studi, un americano e due francesi dove hanno documentato che il bevitore di caffè, poi diciamo un attimo cosa vuol dire bere caffè ha un rischio di mortalità o anche di eventi tumorali significativamente più bassi del non bevitore di caffè questo perché si confonde caffè con la caffeina il caffè è un chicco, è un chicco di qualcosa di prezioso con dentro delle sostanze antiossidanti di una ricchezza enorme, enorme quindi un effetto antiossidante vuol dire antinfiammatorio, quindi protettivo qualcuno mi può dire vabbè ma allora beviamo tonnellate di caffè no, allora il concetto di caffè sano mediamente si avvicina a cosiddetti 200 e non dovrebbe assumere 400 mg di caffeina tradotti sono 3-4 tazze al giorno sono assolutamente positive per l'umore, per la pressione arteriosa parlavo con una collega viennese che ha dei dati molto simili ai nostri che tra virgolette chi beve caffè non ha la pressione più alta di chi non beve caffè quindi questo è uno dei concetti forse poco chiari ma perché il caffè è sempre stato visto come un elemento così in più un divertimento, un piacere e i piaceri spesso vengono associati alla negatività io farei molto più attenzione al sale che sembra così innocuo il sale è molto pericoloso soprattutto in chi ha tendenze ipertensive ha dei danni devastanti quindi sul caffè ci facciamo più attenzione ma è positivo grazie grazie